Sono andati in rete alla prima occasione dell'incontro, però cominciare bene è un merito. Poi loro su quel gol sono stati bravi a costruire le basi della vittoria. È finito il tempo a nostra disposizione. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!